Bentornati a tutti ragazzi e ragazze. Oggi nuovo video relativo ai videogiochi decentralizzati. Sei rilassato, hai sbrigato tutte le faccende ed adesso ti metti comodo per giocare al tuo gioco preferito. Accendi la console ed ecco che un messaggio insolito compare sullo schermo. Il messaggio di errore recita che il nostro account con cui giochiamo e con cui abbiamo comprato i giochi, le skin ed altro ancora collegato al nostro account, account storico di almeno 5 o 10 anni, risulta permanentemente bannato per qualche violazione dei termini. Scatta il panico. La prima cosa che viene in mente è quella di contattare il supporto per avere spiegazioni in merito al problema. Supporto che però non è di aiuto dove non solo ci invita a creare un nuovo account, ma in più viene detto che non possono commentare sull'accaduto. C'è qualcosa che non va in questa risposta e quindi cerchiamo di appellarci a questa decisione relativa al ban del nostro account in quanto nel giro di 24 ore non è stata fatta nessuna operazione strana con il nostro account, ma purtroppo la piattaforma ecco che si mette di traverso e non riusciamo ad appellarci. Ecco, questa è stata la dinamica di migliaia di utenti che nel giro di un giorno si sono visti il loro account principale e contenente tutti i giochi e vari DLC e salvataggi in cloud, persi per sempre e senza nessun valido motivo. Errore, uguale a ban. Il mondo dei videogiochi ha subito un notevole miglioramento della grafica, ma anche della tecnologia adottata dove in passato si comprava il supporto fisico e bastava inserirlo nella console per giocare, ma adesso la console è diventata la porta di una schiavitù volontaria dove per entrare hai bisogno di un account dedicato e di una connessione internet, sia per comprare videogiochi che per giocarci, e dove perdi i tuoi diritti di videogiocatore nei confronti dei famigerati termini di servizio. Perché con questi termini non viene tutelato colui che compra la console, i videogiochi ed investe tempo e risorse per svagarsi e divertirsi? No, sono a tutela dei colossi che possono mettere alla porta e bannare chiunque, per qualsiasi motivo e senza potersi difendere. In più, grazie a vari sistemi automatizzati e quindi senza un reale controllo umano che prende la decisione, ecco che può bastare un errore o malfunzionamento del sistema per bannare milioni di utenti in tutto il mondo, come è successo in questo caso. Nessuna comunicazione e nessuna scusa. Non solo non c'è stata nessuna comunicazione o rilevazione del problema, come possiamo controllare sul sito preposto a guasti o di servizi, ma in più, non, ci sono state nemmeno le scuse per il danno arrecato in questi giorni, come se tutto fosse teso a nascondere l'accaduto. Infatti, nel giro di qualche giorno, alcuni utenti sono riusciti a sbloccare la situazione ed ottenere indietro i loro account, ma senza ricevere nessuna info in merito all'accaduto. Tanto è vero che alcuni utenti hanno avanzato l'ipotesi di fare una class action nei confronti del produttore per l'accaduto. La libertà dei videogiochi Web3 Quello a cui abbiamo assistito è qualcosa che accade con frequenza e con problemi diversi. Solo un paio di mesi indietro, diversi store di videogiochi erano offline per problemi ai server, impedendo di fatto a chiunque di giocare. Cosa ben diversa con i videogiochi Web3, in quanto non solo sono basati su blockchain e quindi sono sempre online ed operativi, ma in più, per potervi accedere, serve un nostro account o indirizzo blockchain che è slegato dalla piattaforma o gioco. Infatti, ognuno è libero di usare l'account che preferisce e dove all'interno del proprio account sono salvate tutte le informazioni, i progressi ed anche le licenze dei videogiochi sotto forma di NFT, potendo in questa maniera avere sempre con sé i propri asset digitali. Non solo l'utente ha piena disponibilità e proprietà dei propri asset che ha comprato e dei propri salvataggi, ma in più, l'utente può anche vendere i propri asset in maniera semplice ed indipendente, dove anche in questo caso c'è la massima libertà. Il mercato globale dei videogiochi Web3 Uno dei vantaggi dei videogiochi Web3 riguarda anche il mercato degli utenti potenziali in quanto nel mondo ci sono oltre 400 milioni di utenti che utilizzano le crypto e la blockchain e che in pochi minuti è operativo e può giocare senza problemi. Ed è in questo settore che Hawken Tech ha ampliato i suoi servizi e prodotti in ambito Gaming Web3, fornendo già una base e con diversi gameplay per soddisfare varie esigenze, mettendo a disposizione già un prodotto pronto ad essere personalizzato e distribuito. Inoltre, sfruttando la blockchain di EOS, si ha un videogioco veloce, senza costi di fee per i giocatori, ed in più non si hanno costi di gestione o di mantenimento, dei server permettendo in questo modo di risparmiare moltissimo sotto quel punto di vista. Il futuro dei videogiochi Come abbiamo visto, il mondo. Dei videogiochi sta poco alla volta cedendo sotto i colpi della concorrenza dei videogiochi blockchain, che già si stanno insinuando nei vari store importanti e diverse software house stanno espandendo le loro partnership con sviluppatori di videogiochi Web3. In futuro, vedremo sempre più giochi decentralizzati rispetto a quelli tradizionali, dove i giocatori saranno i veri proprietari dei propri asset e potranno scambiarli ed interagire con altre piattaforme ed altri videogiochi. Questo è tutto. In descrizione al video trovate l'articolo completo con tutti i riferimenti e link e vi aspetto al prossimo video.